Quali sono le novità fiscali che nel 2023 interesseranno Dubai? Dubai sta cambiando, sta cambiando sotto un profilo sociale, sotto un profilo culturale, una città che va a una velocità fuori di testa, è previsto di aumentare il numero di abitanti dai 4 ai 20 milioni nel corso dei prossimi anni, quindi potete immaginare a quale velocità folle la città è lanciata, ma non senza una regolamentazione, anche fiscale. Che cosa sta cambiando sotto un profilo fiscale? Te lo dico tra un momento. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale per rimanere aggiornato con i nuovi video che pubblichiamo di volta in volta. Siamo oggi qui a parlare di Dubai nel 2023 e oltre. ci sono dei grossi cambiamenti in atto e questa cosa dovrebbe farti capire che affidarti a un professionista per problematiche fiscali è assolutamente fondamentale perché è l'unico modo per rimanere al passo con i cambiamenti legislativi. Cerchiamo di chiarire un punto principale, il primo e il più importante. Dubai non è un far west sotto un profilo legislativo. Esistono delle leggi, esiste sia l'imposizione che una legislazione fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette. Si esiste l'IVA a Dubai, cioè l'IVA del 5%, ma quello che devi sapere è che esistono burocraticamente delle procedure di compliance da fare ai fini IVA, cioè delle dichiarazioni. non è vero che l'IVA non esiste e soprattutto non è vero che se fai affari con il resto del mondo puoi non versare l'IVA, ma questo è un tema molto più delicato, lo tratteremo in un altro video. Quello che invece voglio farti capire è che dal 2023 ci sono delle novità molto importanti che non puoi ignorare. Come sai, se mi hai già eseguito in altri video, la più importante è che da decreto ministeriale, a partire dal primo aprile del 2023, le società nel mainland introdurranno una tassazione al 9%, una cosiddetta corporate income tax, che interesserà fondamentalmente ad oggi le società che fanno business, diciamo B2C o comunque che fanno business all'interno nel mainland, cioè quelle che vendono cose, prodotti, servizi Dubai su Dubai. Questa tassazione non dovrebbe interessare le free zone, ma il condizionale d'uso, perché il decreto ha delle definizioni ancora molto lasche, quella di qualified person e quella di qualified taxable person, di qualified taxable income, che potrebbero essere soggette a modifiche o interpretazioni, quindi in questo momento sì, puoi stare relativamente sicuro, ma il monitoraggio dell'evoluzione normativa e legislativa è assolutamente fondamentale. Un'altra cosa da prendere in considerazione è che anche la disciplina del transfer pricing sta per prendere piede a Dubai, questa è una cosa che interessa soprattutto i grossi, i gruppi o comunque chi affronta un processo di internazionalizzazione, perché il transfer pricing è una disciplina cosiddetta sui prezzi di trasferimento che si applica quando ci sono transazioni intercompany, quindi se hai soltanto un'azienda a Dubai, il transfer pricing non andrà a preoccuparti. Diversamente se sei il manager o se sei un imprenditore che sta sviluppando più società collegate tra di loro e allora questa è tutta altastroria e va presa in considerazione. Numero 3 è molto importante, si va verso un nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche, probabilmente, qui di nuovo il condizionale è d'obbligo, si va verso un concetto di residenza fiscale legata a una permanenza di 90 giorni, non più di 6 mesi. Questo sarà un game changer sia per quanto riguarda il relocation plan ma soprattutto per un pubblico a me caro che è quello dei digital nomad, dei nuovi imprenditori dell'economia digitale che hanno la possibilità di spostarsi e di prendere anche più di una residenza civile e un'unica residenza fiscale. Quindi questo è un punto su cui anche torneremo ma portatelo a casa perché è fondamentale. Tutti questi cambiamenti si inseriscono in un contesto politico-economico molto più ampio. Dubai sta cercando di levarsi di dosso quel velo di opacità che l'è proprio, che l'è stato attribuito anche dai media internazionali fino ad oggi e sta cercando appunto di andare verso una trasparenza, una collaborazione che le permetta di aumentare, velocizzare ancora di più i rapporti commerciali e istituzionali con l'estero. Quindi si va da una zona grigia a una zona sempre di più white. Questo farà sì che Dubai sempre di più rimarrà protagonista da oggi e per il futuro dei cambiamenti su scala internazionale. È un hub importante che noi imprenditori, soprattutto noi imprenditori digitali, non possiamo ignorare. Io sono Luca Taglielatela, ti invito a cliccare like se ti è piaciuto il contenuto di questo video. Per dubbi e approfondimenti clicca il link in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video.